Noi non potevamo non esserci, per una serie di ragioni, qualcuno l'hai detta tu, le altre provo a esporle sinteticamente. Siamo una banca del territorio da oltre 150 anni legata a questa area, della quale abbiamo concorso allo sviluppo produttivo e alla ricchezza delle famiglie. L'abbiamo fatto stringendo un forte gambe di comunità, che non è mai venuto meno e che ci riproponiamo di continuare. L'abbiamo fatto seguendo gli imprenditori nelle loro iniziative, cercando di appoggiarla e seguendo anche le inclinazioni dell'imprenditoria locale. Confagricoltura ovviamente non poteva mancare questo appuntamento, le associazioni, le organizzazioni agricole ci hanno creduto. Qua si parla di un prodotto del Made in Italy, il Made in Italy che è poi il filo conduttore che da Expo è partito e che sta arrivando anche a Ferrara. Certamente sì, ma di più si parla di un prodotto del tutto particolare, si parla di pere. La pere abate è la regina delle pere, è la migliore in termini di qualità e anche di capacità produttiva e la produciamo solo noi. Tre province producono il 90% delle pere abate che si cottivano a livello mondiale. Quindi sta solo nelle nostre mani affermarla, sta solo nelle nostre mani avere la capacità di generare un reddito vero e continuativo per gli agricoltori. E questa occasione, questa fiera, ancorché biennale, ci dà l'occasione di discutere meglio, di avere un luogo fisico per la discussione e per la progettazione di un futuro per la frutticoltura e per gli agricoltori di Ferrara, ma non solo, di tutti i frutticoltori che coltivano pere. Anche col diretti, insieme alle altre organizzazioni, presenti per ricordare che questo prodotto, la pera, che in questo momento lei tiene nelle sue mani, è un prodotto fondamentale per questo territorio e non solo per questo territorio. Beh, innanzitutto la pera e l'abate, in particolare, poi questa non è un abate, però mi si concede insomma al passaggio, rappresenta Ferrara ed è il prodotto principe del territorio ferrarese. E quindi come tale va, diciamo, al di là delle sue ottime qualità organolettiche e nutrizionali, va promossa e va incentivata la vendita e la produzione di questo prodotto meraviglioso che rappresenta poi tutto il territorio ferrarese, ecco. Grazie.